La scelta si sta iniziando, cosa aspettate di questa prima esperienza all'occhio? Sono felice, è una bella esperienza e sono felice di giocare con questi ragazzi, di essere in una bella città come Siena e di giocare in fronte di un grande crowd. Non solo l'Italia, ma anche l'euroleague che aumenta la capacità di giocare. Probabilmente l'NBA sta guardando l'europeo. È una buona liga, grandi giocatori che venivano qui. Ho sentito tutto bene. Sono molto felice per andare iniziando. È una bella competizione e si prepara per l'NBA. Che puoi dire ai fanci per presentare a te? La gente ha parlato del point guard, del combo guard. Qual è la tua identità? Io gioco both point guard e shooting guard. Sono un 1-2. Non mi aspettare a giocare in fronte dei fanci e a riuscire a incontrare le persone in Siena. È sicuramente un grande show. Ciao! Ciao! Ciao!